Bella ragazzi, sono BenWolfers e siamo tornati su Rocket League, andiamo a fare subito la nostra partitella quotidiana. E dopo un'attesa infinita, finalmente sta per iniziare il match. Abbiamo in squadra uno sconosciuto e un esperto, e la prima volta che ho in squadra un esperto e siamo con un principiante e un semino sconosciuto. A me sembra un tantino squilibrata la situazione. Per magari ci fanno il culo, ma quello guarda quando c'è a segnare. Ma dai, davvero vi siete fatti uccellare in questo modo? Fatemi vedere una cosa, è lo sconosciuto che ha segnato un esperto, ma importa chi c'era, c'era l'altro sconosciuto. Forse è stato il principiante e l'avrei potuto capire. Beh, meglio così ragazzi, un gol in due secondi, non so se il gol più rapido di Rocket League possibile. E mi sa di sì, perché comunque un minimo di tempo la palla ce la mette per arrivare in porta, no? Ma secondo l'epoca ci manca. Ragazzi, che bella parata che hanno fatto. Io sono rimasto un attimo più in difesa. E qua è stato un bel intervento il suo. E andiamo a tirare subito, vediamo un po' come va Palo, figuriamoci. Ma abbiamo fatto un ottimo assist per Nicky Tnik. Ottimo davvero ragazzi. Qui speravo di segnare all'angolino basso, a fil di palo, ma non mi è andata bene. Questa è nostra, ma tantissimo proprio. Vediamo di spizzicarla e non ci siamo riusciti. Perché abbiamo tutti i compagni a darci una mano, non ci sono problemi. Ma sapete che questa è bella? No, ma dai! Che traversa era? Ma te prego! Questo la piglia sicuro e infatti... Uh, per fortuna mi hanno spinto contro la palla. A me va benissimo, sinceramente, eh. Prendiamoci un po' di turbo. Lì hanno un portiere da scavalcare che si è comportato bene. Uh, ho provato a contendergliela questa, ma niente da fare. Aglia, ho beccato il nostro compagno. Sì, abbastanza sì. Se ce la togli, grazie, tu no, eh. Bravissimo. Quello va liscia. Facciamo un bel rimbalzo, palla, grazie. Quello va liscia pure. E la ricevo tutti! Arriva Master007 che la butta in gol. 3-0 per noi, ragazzi. È stata una serie di sci fantastica. Siamo un gruppo di mentecatti. Tutti, dal primo all'ultimo. Altra buona palla da mandare in rete. Forza. Quello se ne è fregato. Qui ci siamo ostacolati a vicenda. Io avevo detto mia, quindi non mi sento di aver sbagliato, sinceramente, anzi. Quindi direi di prenderci il turbo. Eh, ma se il nostro compagno non giocasse contro di noi, gentilmente. Questa è buona, gliel'alzo alla squadra. Non gliel'alzo mai alla squadra perché preferisco a fare a Spider Pork. Vediamo un po'. E come ti pi... No! Questa è brutta, ragazzi. Per fortuna quel Tex che dovrebbe essere un... E infatti, stiamo a giocare contro due elementi del computer. La gente abbandona la partita così. Ho capito che state perdendo 3 a 0, ma io, sinceramente, la proverei comunque a combattere un po', no? Colpo di testa! Bellissimo! 4 a 0 in due minuti. Io penso che tra poco, purtroppo, abbandoni anche il terzo. Mi dispiace per lui. Vediamo se arrivano altri giocatori. Eh... E questa come la paro? No, questa va alta. Sì. E qui siamo pure un po' fortunati. Abbiamo fatto un intervento in contemporanea. Io e il mio compagno, bellissimo. Peccato che mi ha mandato affanculo con un tiro. Ah! Vincito dal tavolino. E beh, ragazzi, era abbastanza prevedibile, dai. Devo festeggiare tutti quanti i ragazzi. Ha nel Master 007 che fa il figo e non festeggia. Va bene, ragazzi. Per questo video è tutto e vi ringrazio. Lasciate un like, commentate e condividete. Alla prossima. Ciao!